Buongiorno, sono Busso Giuseppe, un'azienda agricola della zona di Racconigi. Ho seminato il mais KUS e la Kefranco. Già seminato gli altri anni, quest'anno però è stata una produzione record come granella. Ho prodotto 174 quintali per ettaro. Mi piace come granella, come pianta, perché è stabile, non viene allettata, è forte. La c'è stagione verde, va bene anche da trinciato. Io non ho le mucche, altrimenti andrebbe anche bene da trinciato.